Ed eccoci qui dal Circo Massimo, zona off limits dal 18-6, qui in questa zona è vietato parcheggiare per fermarsi fino al 23 o al 26, in questo caso al 26 giugno, quindi tutta la zona intorno al Circo Massimo dove si sta mettendo su il palco dei Rolling Stones, è recitata, ecco qui il Circo Massimo, lunghissimo, lo vediamo più da vicino, eccolo qui, lavoro in corso, si sta montando tutto quello che è il palco enorme, il concerto dei Rolling Stones, vedete, non ci si può entrare ovviamente, stanno montando tutto quanto, anche comprendolo per la pioggia eventuale, quindi oggi mancano due giorni e siamo qui in attesa del 22 giugno per il concerto.